Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono per l'impasto, farina di tipo 00, zucchero, burro fuso, caffè espresso, vanillina bimbi, lievito per dolci, uova, un pizzico di sale, per la glassa, zucchero a bello e caffè. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando sulle lame la farfalla. Mettiamo nel boccale lo zucchero, le uova e le facciamo montare senza misurino per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4. Togliamo la farfalla dalle lame, aggiungere la farina, il caffè, il burro fuso, il lievito, la vanillina e il pizzico di sale. E facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 5. Trasferire in uno stampa anciambella del diametro di 22-24 centimetri ben imburrato ed infarinato. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 40-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la glassa. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero a velo e il caffè ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 8. La glassa è pronta, versiamola sulla torta e serviamo. Ciambella al caffè. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie!